Amici di canale Europa Sport, bentornati a questo nono episodio di 65 e mezzo al Fanta, il format dedicato all'analisi, al commento, alla sfida e anche ai consigli su un tema molto caro ai tifosi di Serie A come il Fanta Calcio. Io sono Federico e qui con me c'è come sempre Mattia, ciao Matti. Ciao Fede, ciao a tutti. Che sta prendendo un po' il vizio della vittoria. Dopo un inizio un po'... Un po' titubante. Un po' sì, un po'. Beh, lo sto vincendo grazie ai panchinari. Stai mettendo un po' di fiato sul conto. Sto vincendo grazie ai panchinari. Perché prendere un gol di Aslani che ti entra dalla panchina non è da tutti. Mi faccio i complimenti da solo perché comunque non è da tutti. C'era anche una gag. C'era una gag ma... Magari il caro Cristian ci rispondeva. Ma Aslani non mi ha risposto su Instagram. Mi ho chiesto un video saluto per poterti ma non me l'ha fatto. Sei stato gustato da Aslani. Sono stato gustato da Aslani. Perfetto, come avete capito la settimana scorsa ha vinto la formazione di Matti. Mi ha dato tutto. Mieritatamente. Sì, direi di sì perché io non ho preso nessun bonus. Se non solo Malus perché ho preso mi pare cinque gialli. Quattro con l'asterisco perché è ridicolo il giallo che ha preso Lautaro contro il Genoa. Ma vabbè. Sei qui a piangere per mezzo punto in una sconfitta. Ah sì, era una sconfitta. In una sconfitta. No, non era niente, ma infatti era subito. Eh no, era non piangere. Allora, non piangere. Allora, non piangere. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Beh, direi che possiamo... Palla ai polli. Palla ai polli, come sempre, palla ai polli. Io non mi smuovo dal mio fedelissimo 343. Ti ringrazio perché non mi hai fatto cambiare la grafica. Ti ringrazio molto. Forse l'abbiamo già usata settimana scorsa questa gag. Siamo un po' ripetitivi. Però è sempre bello ripeterla e sottolineare che faccio io le grafiche. E il mio portiere sarà Montipò. Bella scelta. Non capisco se sei ironico. No, ogni volta che ti dico bella scelta, allora sono ironico. In questo caso è ironico, però non sempre capita che la cosa sia ironica. Vabbè, vedremo. Vedremo, vedremo. Vedremo, vedremo. Ok. Io invece cambio, perché ho cambiato la grafica, e faccio un 4-3-3. Quindi torno a voler prendere il bonus modificatore in difesa. Ok. E scelgo Martínez. Bel portiere. Bel portiere. Non sono ironico, guarda, non sono ironico. La ringrazio, la ringrazio molto. No, un bel portiere. Genoa fa bene, in casa prende, non perde praticamente mai. Ha perso solo contro l'Atalanta. E il Monza in trasferta fa molta fatica. Segna raramente. Colpani è parito, sostanzialmente. Era un jolly da nazionale, adesso per me non verrà neanche convocato. Penso anch'io. E quindi confido in un clean sheet di Martínez. Beh, Martínez che tra l'altro hanno già voci di mercato che lo vedono come possibile il gestore di Sommer. Pare. Pare. Sono voci molto ancora... Ma guarda, ti dico, già un paio di puntate fa avevano detto di Gregorio a Roma, al posto di una sedia e a quanto pare la sedia è stata tolta dal Vilar che sta dimostrando di essere un ottimo portiere. Forse è meglio non entrare troppo in tempo. Sì, che ne ci competono. Esatto. Lo lasciamo ai colleghi di Calcio Mercato tolto. Esatto, agli esperti. Esatto. Salutiamo. Sono molto più di noi. Esatto. Vado con la mia difesa? Ma è con la tua difesa. Sarà, come ho detto, una difesa 3 che vede giocare. Ho scelto Di Lorenzo, Gabbia e Angelinho. Dovremmo avere anche qualche numero su Gabbia, che è, diciamo, forse quello un po' meno scontato. Più particolare. Un po' più particolare di questi tre, che però, di fatto, è stato un ritorno da un prestito, ma è stato praticamente un acquisto da parte del Milan, perché, a dirà degli infortuni, la squadra di Pioli, secondo me, non poteva più contare sui giocatori che ti hanno fatto la differenza gli anni passati, specialmente dall'anno dello scudetto, mi viene in mente Kier, che però non ti stanno più dando quella solidità e quelle sicurezze di prima. Infatti, i gol subiti sono un problema del Milan. Tu ne sai bene. Ho perso per Magnano, perché ho preso quattro gol. Esatto. A Monza. A Monza. Esatto. Gabbia non ha risolto questo problema, però sicuramente, anche in vista del ritorno di Tomori e soprattutto di Calullo, scusate, secondo me si sta comportando molto bene. Matteo Gabby. È da nazionale? Molto sottovalutato. È da nazionale? Secondo me no. Secondo me ha davanti troppi… Matthew Cage non è da nazionale. No, secondo me ha davanti troppi giocatori. Penso solo a… a parte il fatto che c'è il famoso discorso come giocare a Spalletti, se ha tre che ha quattro. Lui ha detto a tre… Abbie d'utile. Ma vedremo. Abbie gioca a Braccetto, Centrale, l'altro Braccetto, Mediano, esterno, sinistro. Davanti. Gioca ovunque Gabbia. Bastoni, Darmian, Acerbi, Calafiori, Mancini. Ma ci sono troppi giocatori davanti a Gabbia? Io confido in una chiamata di Gabbia. Mi sembra troppo azzardata, non sono troppo da… Eh, vai. Pareri discordanti, per cui… Ci sta. Ci sta. Vedremo. Vedremo, vedremo. Vai. Faccio con la mia difesa? Sì. Faccio un bel scontatissimo Teo Hernández. Poi completo con Romagnoli, Gallo e Ostigard. Ostigard di cui abbiamo anche la grafica, che grazie all'assenza di Rachmani, per infortunio, dovrebbe pare giocare titolare. E c'è un confronto con le partite dell'anno scorso, quindi dello Scudetto, in cui Prente non ha mai giocato e quest'anno, in cui ha fatto già 12 partite da titolare, ha già segnato un gol e comunque ha portato quattro clean sheet, che a mio parere è meglio avere un Ostigard in più e un Juan Jesus in meno nella rosa del Napoli a questo punto, visto anche il rendimento di Ostigard e anche in proiezione offensiva è un giocatore che va più a saltare di Juan Jesus. Sì, è vero. In fase offensiva sono d'accordo, però non facciamoci troppo ingannare dall'errore di Kai, perché poi magari è un po' facile entrare nella narrativa che Juan Jesus anche per le brutte prestazioni che ha offerto quando era all'Inter, chiaramente è un giocatore normale. Niente, niente di che. Non è un nuovo tre soldi. Ma no, no, assolutamente no, secondo me, non è un fenomeno, ma non è un giocatore di una caratura così bassa. Ok, ok. No, però secondo te, almeno secondo me sì, tutto questo spazio in più per Ostigard è dovuto al fatto che il Napoli è senza Kim e a parte Nathan preso 5 milioni non è che non è arrivato nessun altro. Sì, avevano trattato Perez con questo inverno, alla fine non l'hanno preso. Dragusin. Dragusin è andato, ha deciso di andare al Tottenham e sì, diciamo che tanto spazio, ma la concorrenza è in livelli. Si è visto l'anno scorso, comunque quattro partite l'anno scorso, ma perché? Perché avevi i Rachmani, avevi i Kim e comunque se non stanno in salute giocano, sono stati squalificati, penso Kim solo una volta in campionato per somma di ammunizioni. Non mi ricordo, sono sì. Per cui, infatti, se hai visto quest'anno, non hai rimpiazzato Kim e Ostigard gioca di più. Perfetto, vado io con il mio centrocampo, il mio centrocampo sarà a quattro e sarà composto da Pulisic, Mkhitaryan, Pessina e Marin. Marin di cui dovremmo anche avere, che forse come per Gabbia è il nome un po' più interessante, dato che ho fatto un centrocampo un po' scontato, permettimelo, però dopo una sconfitta volevo rischiare molto poco, Marin che con Nicola, secondo me, è stato un po' altalenante quest'anno perché ha avuto anche degli infortuni, ma soprattutto, secondo me, è stato anche erroneamente messo in panchina, specialmente sotto la gestione di Andrea Zoli, non tanto di Zanetti, quando invece è un giocatore che, secondo me, in una realtà come Empoli, è estremamente duttile e ti può portare davvero un qualcosa in più a centrocampo. Ma soprattutto c'ha un ottimo piede per quanto riguarda i calci piazzati e Sevista. Infatti, l'anno scorso, dove l'Empoli ha, secondo me, fatto una buona stagione, ha trovato una buona salvezza, l'anno scorso comunque quattro assist e due gol erano arrivati. Anche a Cagliari, mi ricordo che i suoi numeri a livello di bonus erano molto buoni. Quest'anno è stato un po' più frenato, però, secondo me, in questo finale di stagione dove l'Empoli deve cercare questa salvezza che sembra molto più abbordabile, secondo me Marin è un giocatore interessante che ritroverà spazio. Bella chiamata. E non sono ironico. Grazie. Prego. Passo con il mio centrocampo che è Volpato, la mia scommessa proprio di giornata, il mio classico penny sul giocatore. Vessino e Fabian. Fabian, il mio bimbo Fabiano. Il tuo bimbo Fabiano è fantastico. È molto forte. Secondo me è davvero fortissimo Fabiano. E ha avuto le prime 15 partite in cui per me doveva assestarsi, doveva trovare lo spazio giusto all'interno del sistema di Diagomotta e si è visto con quelle presenze, alla fine è solo due partite da titolare, si è apportato due gol, ma l'ha subentrato. negli ultimi 12, sette da titolare, due gol, un assist, una presenza più completa. Gioca, si alterna con Ferguson tra trequartista, mediano e quant'altro. E poi, ti dico, al fantacalcio, se c'è un giocatore che è un ex della squadra che sfida, può essere anche l'inter, che è quest'inter, ma io Fabian da ex lo metto. Sai, tra l'altro io quando vedo giocare Fabian e quando vedo, soprattutto magari che va in gol e lo fa buona prestazione, sai a chi penso? Penso a Balsaretti, perché quest'anno Fabian doveva andare all'Udinese nell'affare saltato Samar Zicinter e Samar Zic è diventato praticamente un giocatore che gioca col contagocce a Udine, praticamente non gioca, è comunque un Udinese che è lì, super borderline, ho scelto Samar Zic, ho scelto Samar Zic settimana scorsa, non ha giocato e mi è entrato Salani. Pensa te, pensa te. Quindi no, no, ma sono d'accordo, gioca col contagocce, ma non gioca proprio. Sarebbe stato sicuramente un super arma in più per questo, per questo Udinese. Ah ma se, vai tu con gli attacchanti? Sì, allora, il mio attacco sarà composto da La Padula, Luke Mann, che ha sfiorato un gol pazzesco in Europa League contro lo Sporting e Matteo Reteghi. Reteghi che quest'anno dovremmo anche avere la grafica. Ha giocato 22 partite, che però è stato anche molto fermo per un infortunio più o meno a ridosso della metà della stagione che l'ha fermato. I gol sono 8, nella sua migliore stagione erano stati 23, chiaramente, nella Liga Argentina che ha un livello diverso, specialmente difensivamente dalla Serie A, però è un giocatore che il gol, l'istinto del gol ce l'ha, potrebbe trovarlo secondo me in questo finale di stagione e ti dirò di più, per me Matteo Reteghi sarà il numero 9 titolare del nazionale all'europeo. E sono parecchio certo, perché sarei, non ne sono sicuro al 100%, ma un 70-30 io lo do a Reteghi sugli altri attaccanti. Io ti dico, a fine mercato, io l'ho anche detto, Belotti. Però per come si sta dimostrando Reteghi in questo momento, anche la rovesciata che ha fatto, proprio distinto puro da attaccante pure da persona, dal calciatore che sa dove la porta. Per me, con un giocatore alle spalle tipo Raspadori che gli può girare attorno, sono d'accordo con te. In un tridente non lo vedo ancora troppo protagonista. Ah sì, io non stavo pensando a un ruolo, a un modulo, sono sincero, anche perché ci sono ancora un sacco di punti di domanda, obiettivamente, sulla formazione dell'Italia. No, 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 esatto, però ti dico, per me in un 4-3-3 non può giocare Reteghi, poi. Però tu adesso hai detto, con Raspadori che gli gira attorno, Chiesa dove lo metti però? Panchina. Scusa, mi ha fatto un sacco ridere la decisione con cui hai detto Panchina. No, ma Chiesa si è visto lo scorso europeo sostanzialmente, che lui è un giocatore per me che negli ultimi 45 minuti, col fisico che ha, se sta bene, ti può spaccare completamente la partita. E io non lo vedo così strano, non utilizzo a partita in corso di Chiesa. Pur essendo il miglior giocatore offensivo che ha l'Italia, ma se tu lo tieni per 90 minuti perdi la sua freschezza sottoporta, il suo passaggio decisivo e quant'altro. In 60 minuti, 40 o quel ci sono, per me Chiesa può fare veramente la differenza. Quindi ti dico, Chiesa io lo vedo in Panchina. Non lo so, la vedo un po' diversamente. Secondo me Chiesa paga molto lo stile di gioco della Juve e anche le idee del suo allenatore. Dopo una stagione che era partita bene ma sta diventando un po' negativa, potrebbe essere, con un allenatore come Spalletti, potrebbe essere davvero quel giocatore che ci può svoltare l'europeo. Chiaro, però una competizione breve come un torneo tra nazionali, come un europeo, non ti dà abbastanza tempo per pensare che Chiesa, penso che non è fatto di cristallo, peggio. Per cui se tu lo fai giocare già a tre partite, 90 minuti, rischi che poi agli ottavi non ti arrivi in condizione adatta, qualche problemino fisico. Quindi io lo utilizzerai veramente col contagocce in modo che ti possa spaccare la partita. E sai chi ti spacca la partita? Noah Okafor, di cui abbiamo la scheda. Bravo. Cioè la mia scelta come attaccante. Stavo per chiudere su Chiesa i miei robot. Bravo, bravo. Come Noah Okafor, che quest'anno da titolare ha fatto solo tre partite, da subentrata ne ha fatte ben 16 e in 16 partite da subentrata ha fatto 4 gol contro uno da titolare. E ti dico, Noah Okafor è la super sub che si utilizzava a FIFA quando è la super sub del Milan e in una partita contro l'Empli che può essere molto chiusa soprattutto per lo stile di gioco che porterà Nicola a San Siro, per me giocherà a Ciocuese perché Ciocuese prima o poi comunque devi farlo giocare, Noah Okafor prenderà dalla panchina e segnerà. Come subentrato. Come subentrato e farà 17 partite da subentrato e 5 gol. Quindi tu ti aspetti di più un gol da subentrato di Okafor piuttosto che di Jovic che tornerà dalla squalifica. Ti dico che se vedo Okafor non titolare nella formazione del Milan sono molto più contento. Apre subito le app. No, no, quello assolutamente no, sono contro gioco d'azzardo, vorrei sottolinearlo in favore di camera, quindi no. Però sono più contento se Okafor partisse dalla panchina che titolare in questo Milan e come sta giocando Okafor in questo Milan. A chiamare. E poi concludo con i miei due attaccanti che sono Scusa, scusa. No, no, ma tranquillo. Che dire? Ok. Che diremo di che dire? Non lo so, però. Scusate, la taglieremo. Però spero che diremo che mi avrà fatto vincere. Ok. E piccoli. Una chiamata un attimino esotica. Una squadra molto esotica la tua. Molto, posso permettermelo, ho vinto. Però sei sempre sotto. Però ho vinto. Tanto gli altri non sanno la classifica effettiva. Dovrebbero guardarsi tutte le puntate. Ma non farò mai la grafica sulla classifica effettiva, per cui loro sanno che io ho vinto la scorsa. E basta. Perfetto. E basta. Io vado con le... Concludo con le mie riserve che saranno Cerofolini, Birindelli, Benasser e il Gallo Belotti. Sai, magari uno dei mie tre... Non volevo mettere il titolare, perché la Fiorentina... Io non mi fido mai troppo della Fiorentina, però sai, magari... Non sei l'unico, io non mi fido di italiano. Però se dovesse entrarmi, sai, io... Come hai detto tu prima, mi piacciono i gol dell'ex, pensare ai gol dell'ex, quindi ho scelto il Gallo. Invece ho scelto Leali come secondo di Martinez, Scalvini, perché sono sempre dell'idea che in panchini bisogna avere gente che gioca, quindi scelgo anche Locatelli e purtroppo mi tocca panchinare Pinamonti. Panchino Pinamonti, li schiero davanti Okafor che dire piccoli. Beh, non è una cosa così assurda, secondo me. È vero che Pinamonti giocherà contro Frosinone e Frosinone è la peggior difesa della Serie A, questo va detto. Io soprattutto ti tieni un bonus in panchina. Io ho fatto tutta una filippica per cui i giocatori che sono estri giocano contro proprie squadre devono essere messi e poi lascio in panchina Pinamonti. Ma il nostro formato è questo, perché siamo senza regole. Mi smentiscono in giro di 45 secondi. Siamo belli per questo. Direi che per oggi è tutto. Io vi invito a scrivere nei commenti se secondo voi ci siamo dimenticati di qualcuno che poteva essere più interessante, se ci potevano essere scelte differenti e vi rinnovo come sempre l'appuntamento settimana prossima su canale Europa Sport con 65 e mezzo al Fanta.